Pennings, nella zona. A noi di quest'anno sabato scolò anche la tv che ci sono meno alberi, proprio meno alberi in vendita. Andiamo ad andare qua dentro, si hanno tutto l'anno di Natale, però queste puni fatte a pietino sono molto belle, pure la porta nei cammini. Vediamo qui, si questo weekend tutti si mettono l'albero, no domani Thanksgiving invece è Black Friday, che c'è qui. Si questo è 120 dollari, questo è una pianta però, piantato. Devo entrare dentro. Questa cos'è? Bugswood. Quanti sono questi? 30 dollari, è quello che piace a me. Questi piccinini qui. Questo è roping. È roping. Vediamo qui che c'è. No, no, no. Questo è bello, questo è quello che piace a me, 25 dollari. Questo è bello anche. Molto bello. Questo è tutto molto profumato. Questo è proprio un country store. Ecco qui. Ecco l'ho trovato. Ecco. Eccolo. Eccolo. Mi prendo il mazzolino. Vediamo com'è questo. Vediamo questo. English Holly. Viene da Oregon, fresco. Ok, prendiamo questo. Holly, qu'è l'altro? E qui? E qui? Oh, questi non sono veri. Troppo cute qui. Questo albero è un po' particolare. Guardate. I love. Vi piace troppo, guarda. Ragazzi. Grazie. Home. Che dolce. Io non piaceremo. Non piaceremo. Yeah. I just need a blue ribbon. Because everyone has red. I want blue. Ok. Any blue? You can buy it by the yard. Let's see. I need it. I need blue. Well, here's blue, 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 blue. Well, uh, that's about it in the blue. Ok. In the velvet. Now, ok. Well, everything we have is out. Ok, I'm going to look around. I think. Ok. Yeah, pretty much. There's skinny ones. That'll never blue. It's trying to blue, ovviamente. Where are you looking? Right there. This one? That's the one. I got that. I got a black one of this. Thank you. You're welcome. This one here, Scottish. Ok. It's a good cotton, this one. Two dollars. How much did I do? One dollar and 99. I cut it. Ok. Now I want to go. voglio prenderlo fuori la porta a parte che queste cose di plastica non le voglio le devo levare tutto l'altro è fresco questo è profumatissimo c'è un po' di tutto e va a prenderlo fuori la porta perché devo essere diversa aspetta, che c'è qui? ecco qui ecco qui questo non ha quella cosa io non voglio niente di plastica ce la sto mettendo tutta ecco, questo è bello però questo di qua c'è più scelte di pino vedrò come lo faccio levare questo non lo voglio però questo lo prendo questa cosa è fantastico è tornata a casa ho fatto il mio fiocco con il naso che ho comprato è veramente una bella stop vedete com'è? c'è del fil di ferro la cosa qua dentro ho comprato solo un metro volevo celeste ma non c'era quindi ho preso scozzese e lo metto fuori la porta avevo delle palline di plastica che sono queste questo è vero però erano di plastica e glielo ho dati a loro se lo tengono loro questi ce l'ho anche in questi sono veramente aspetta ne prendo una profumatissima questa sa proprio di Natale questo e costa molto di meno della ghirlanda rotonda no? e sembra molto carino mettere fuori la porta e il fiocco l'ho scelto io questi l'ho tagliato ora ce ne sono questi avanzi li mettiamo in un altro e ho messo acqua qua dentro ho messo dell'acqua li ho tagliati ora questi piccoli rametti questi li metto in un altro vasetto ma che cosa ci farò e e questo lo mettiamo qua sul tavolo lo metto qui quindi ci devo dare acqua e qui questo sa proprio di Natale volevo anche l'eucalipto però non c'era perché anche l'eucalipto sa molto di Natale poi è preso è preso dovrebbe durare per un po' se cambi l'acqua e lo curi come un fiore quindi ho questo qui ora questo lo metto fuori alla porta ne pensate? semplice molto rustico adoro poi il fiocco lo posso levare alla fine della stagione lo penso lo riutilizzerò lo riutilizzerò il mio foco ecco però è molto carino lo scozzese è molto natalizio è molto carino è molto carino però mi devo fermare a un altro posto per le irlande questa è troppo carina no dai quanta vogliono 25 dollari profumatissima guardate troppo cute hashtag troppo cute grazie